Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Partiamo dalla A1 in direzione Bologna, troviamo traffico a Rilento, Taccalenzano e il BV A1 variante. Sulla variante corre a tratti tra il BV A1 variante e Badia in direzione Roma. L'area di servizio Montepulciano Est in A1 direzione Bologna e presenta un guasto nell'impianto di erogazione GPL, servizio non disponibile. In A12 permane traffico intenso a Rosignano Barriera e in viaggio per Rosignano. Ancora corre a tratti in entrambe le direzioni tra il BV A12-A15 e il BV A12-A11. Sul fronte ferroviario dal sabato 12 agosto a domenica 3 settembre, lavori di manutenzione straordinaria tra Arezzo e Montevarchi. Variazioni e cancellazioni per i treni regionali delle seguenti relazioni. Firenze-Foligno, Firenze-Roma, Sestri-Levante-Arezzo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!